Ragazzi, io sto andando alla polizia perché abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mio iCloud e hanno rubato delle cose private, cose mie personali fatte con mio marito e adesso chiunque sta divulgando questi video, se li sta salvando, purtroppo io devo dare i nominativi alla polizia e verrà denunciato per risalire a chi è stato a rubarmi tutte le informazioni e tutte cose mie private, ok? Per favore ragazzi aiutatemi, perché comunque sono una mamma, ho dei figli, ho un marito e queste cose sono cose private, di vita privata di ogni persona e questa è veramente una cosa oltre che illegale che va a rovinare la vita delle persone Allora ragazzi, anzitutto vi ringrazio per tutti gli staggi che mi state mandando bellissimi Purtroppo quello che mi è successo è uno schifo è uno schifo perché può succedere a tutti di fare video, qualcosa, sono video personali Ma più di più che altro sono video privati nostri, noi possiamo, nella vita privata nostra possiamo fare quello che vogliamo o possiamo fare quello che vogliamo Io se faccio un video ed è mio sul mio telefono personale io non penso che nessuno di voi abbia fatto una cosa del genere Questo siano cose normali, ok? Quindi uno li tiene privatamente per sé E chiunque abbia divulgato questi video sia entrato nel mio iCloud Comunque verrà denunciato E anche su Whatsapp chi divulga sappiate che siccome ho la denuncia sta vedendo un filmato che è una violazione ed è un reato anche chi solo lo guarda e lo tiene nel telefono Questo sappiatelo ragazzi Purtroppo voi mi vedete sempre forte, sempre solare e sorridente ma purtroppo queste cose toccano anche a me perché comunque sono una mamma sono una persona anch'io faccio sempre la cretina, rida e scherzo ma queste cose veramente mi sono successe, no? Abbiamo avuto altri esempi di altre persone a cui è successo tutto questo altre non finite bene io per fortuna sono una persona forte ma questa cosa è veramente una cosa orribile orribile veramente ragazzi mi ringrazio perché a me state vicini e a quelle mete non so neanche se curarvi la morte perché andrebbero via dalla terra senza soffrire un tantino così